Le sirene non hanno necessariamente la coda, non vanno sott'acqua e non ammalino i marinai con la loro bellezza, o meglio, non solo. E si nascondono tra di noi, come la scrittrice ed esperta di tango Mary Lau, milanese di nascita, latinoamericana di adozione e romana di elezione, presentato insieme alla direttora di Antenna Sud, Anna Maria Ferretti, nel corso dei dialoghi di Trani. Io ho scoperto poco a poco che io sono una sirena, le sirene cantano, cercano di essere ascoltate, e invece gli uomini, e anche molte donne, alcune donne, non le ascoltano o le prendono per un'altra cosa, non per la loro esclusività. Un dubbio ci resta, ma le sirene ballano il tango? Come no, come no, io lo ballavo fino all'ultimo incidente sirenico che mi ha accorto.